nicola conversa regista gabriele boscaino produttore ci volete spiegare che cos'è in cosa consiste la campagna we are stories allora la campagna we are stories atto 2 2 che la seconda campagna rispettacola dell'anno scorso mette al centro quattro storie quindi quattro in questo caso quattro ragazze quattro esperti all'audiovisivo abbiamo voluto raccontare proprio le loro storie di persone che durante il lockdown hanno cercato di inventarsi un lavoro ci sono riusciti questa volta sotto il punto di vista un po più femminile rispetto alla prima campagna quindi abbiamo aperto al mondo femminile questi lavori che si stanno cercando di consolidare anche in quell'aspetto e speriamo vi piaccia grazie mille